Ah... ah... Ti prego, aiutaci. Ah... Una bella ormai... Un terrore enorme incombe su di noi. Ludwig, il dannato, sta arrivando! Abbi pietà. Abbi pietà di noi. Ah... 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 ah Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ah, sei rimasta al mio fianco per tutto il tempo. Mia unica mentore. Mia luce guida. Mia unica... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.